E' bello giocare, ma ora devo proprio andare, mi stanno aspettando, ci hanno indicato. Volete vedere cosa c'è nella mia valigia? Un mondo di calori! Tanto divertimento, e ovviamente la musica. Ed ecco il famoso asso della manica. No, non è che io sono un asso, ma sono siciliano, e un siciliano lì su ci va! Ma non posso andare senza il mio Sweet Cannolo. Sweet Cannolo! Sweet Cannolo! Tuolo! Ciao! Ciao!